... Alla fine di gennaio che sono arrivata qua per vedere, va bene, il padiglione Greco lo conoscevo da anni, però sono venuta qua per fare le fotografie di nuovo e misurare tutto lo spazio fuori e dentro l'edificio. Piano piano mi è venuta l'idea, perché io faccio delle installazioni grandi, perché è importante avere un lavoro dentro lo spazio che si fa ogni tanto, vuol dire che l'edificio deve essere parte del mio lavoro, non è l'edificio fuori e io entro dentro e faccio un'installazione o qualsiasi cosa. Allora mi è venuta l'idea di chiudere questo padiglione Greco dentro con una costruzione di legno come che è un edificio che lo vuoi rinnovare, diciamo, o un negozio che lo chiudi così e dentro vuoi rinnovare l'edificio. Ma a questo momento, come è la Grecia in brutte condizioni, molto difficili, io ho pensato che si deve chiudere, noi dobbiamo chiudersi dentro, riconsiderare le cose, ripensare, vedere come dobbiamo riuscire a superare queste condizioni che siamo adesso. e dobbiamo ripensare come devono andare le cose così, perché è un esempio però non solo per la Grecia, tutto il mondo ha bisogno di riflettere di nuovo le cose, di ripensare, di vedere come si può andare avanti, perché dappertutto le condizioni sono ormai difficili, no? e con la luce che c'è dentro e che c'è un corridoio che puoi andare lì, un passaggio verso la luce che la vedi da lontano e poi quando ti avvicini ti faccio subito girare a destra e andare via lontano da questa luce, però avendo fatto questo percorso tu puoi capire, ti resta dentro la mente che... esiste un'altra possibilità un lavoro unico, la parte interna e esterna, si crea un lavoro tutto unico, e non c'è dentro né la pittura né la scultura né un video, ma con le forme architettoniche si crea tutto questo, in sensibilità, c'è la luce come abbiamo dentro, che questa luce non è la luce che vediamo alla vita quotidiana, è un'altra la luce che ci dà la speranza e possiamo sentire che le cose o sono la vita nostra, può cambiare, la speranza che io penso di sì, almeno io la sento così che do la speranza con questa luce, però dipende da ognuno come lo può sentire, questo è come forse tutti non lo accettano ma dipende anche da ognuno come sente lì dentro, forse non ho fatto niente e nessuno sente niente, però io spero che ho sentito persone che mi hanno detto che hanno sentito molte cose lì dentro e questo per me è quello che volevo fare io, perché sono opere che non le puoi spiegare con parole e scrivere testi per spiegare cosa vuol dire il lavoro. Le mie installazioni che sto facendo sono più che devi entrare dentro e forse ti do la possibilità di sentire le cose, di pensare un po'. Grazie a tutti.